24 ottobre 2020 significa 4 anni dal secondo sciame sismico del terremoto che nel 2016 ha devastato il centro Italia. 4 anni e la ricostruzione ancora è solo un miraggio e per qualcuno adesso si rischia anche la beffa. Scadenza in arrivo infatti per le richieste di contributo alla ricostruzione post-sisma del 2016. Lo ricorda il commissario straordinario Giovanni Legnini che ha scritto una lettera ai sindaci del cratere e ai presidenti delle ANCI regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ricordando le principali novità normative e le imminenti scadenze su tutte quella del 30 novembre 2020 delle domande per i danni lievi vale a dire interventi di immediata esecuzione sulle unità o immobiliari con danni lievi che non hanno altri vincoli alla presentazione dei progetti. Mancano ancora all'appello inoltre migliaia di pratiche e la scadenza non sarà ulteriormente prorogata è fondamentale sensibilizzare la popolazione sull'esigenza di rispettare questo termine perentorio con la mancata presentazione della domanda perderebbero il contributo per la ricostruzione e il CAS.